Con Flavio Lenardò, un fondatore di 3Dream che nell'edizione 2024 di Olio Officina Festival ha portato tante cose per cui ha anche ricevuto dei premi, un video, una bottiglia molto particolari potremmo così definirlo un contenitore, poi ci racconterai esattamente com'è ecco appunto partiamo dall'inizio, dal video e poi andiamo con il resto Il video rappresenta null'altro che il progetto Rinascita nel video viene spiegato il bisogno che c'è stato per il Salento di porre un focus su uno dei grandissimi problemi che affliggono l'olivicoltura della zona del Salento la xylella la xylella ha di fatto raso al suolo e reso inservibili tutte le culture olivicole del Salento creando un danno economico disastroso e perciò c'è stata la necessità di prendere in mano questo problema e cercare di risolverlo poche, uno sparuto gruppo di aziende, poche aziende hanno fatto questa operazione e tra queste l'olio congedi di Ugento io avendo questa idea di mettere un focus sul Salento ho creato l'idea di fare una bottiglia che stesse a significare la rinascita del Salento la rinascita del Salento è necessaria per ridonare al Salento la sua economia e la sua identità ho preso dunque contatti con aziende note e che si muovono sul territorio salentino un'azienda di ceramisti, la beneggiamo ceramiche di Cutrofiano e ho preso contatti con il maestro Giovanni Russo che è un noto artista sempre salentino e tutti e tre si sono sentiti coinvolti nell'operazione e assieme abbiamo creato questa bottiglia che è molto rappresentativa del futuro sicuramente ma che dà un'idea di quello che era il passato un po' stagnante della tradizione salentina era un po' fermo su se stesso la Xilella ha dato uno stop a tutta questa tradizione e i salentini stessi si sono rinvigoriti trovando nel problema una soluzione perciò sono stato molto contento di ricevere questi premi perché è un premio non tanto a me che sono l'ideatore, è vero ma è un premio alla volontà del popolo pugliese, dei salentini di rinascere e questa bottiglia appunto si chiama Rinascita ed è stato bello proprio prendere questi premi in una carmesse come quella di Olioficina sempre attenta ai bisogni degli olivicultori questo è uno dei punti che abbiamo toccato con le premiazioni ma importantissima è stata la presenza invece della cooperativa olivicola di Arnasco che è una piccola realtà ligure nella provincia di Savona che da 25 anni pone in essere azioni di salvataggio del territorio pone in essere dei presidi del territorio che vanno a salvaguardare l'equilibrio idrogeologico delle montagne savonesi diciamo alle spalle di Albenga e quest'oggi abbiamo avuto la fortuna di avere il presidente il dottor Galizia Luciano e due giovani agricoltori olivicoli che si sono trovati nella volontà più che nella necessità di riabbracciare l'agricoltura di riabbracciare l'olivicoltura questo mestiere così duro che però dà grande soddisfazione li abbiamo sentiti nel palco proprio esprimere il loro apprezzamento per questa bella professione che è l'agricoltura che è una cosa invidiabile l'unico che hai come comandante è il cielo dicono loro si fa tutto quanto sotto il cielo e abbiamo avuto anche la possibilità di sentire le parole di un maestro dei muretti a secco è un maestro carpentiere ma è un maestro carpentiere dei muretti a secco che da dieci anni fa scuola ai giovani alle scuole di questo paesino di Arnasco nel primo introterra al Benganese e che porta frutto perché i giovani si continuano a disinteressare un po' del problema dell'agricoltura e soprattutto quella impervia ligure e in questo modo invece li riavviciniamo ritorniamo a mettere nei loro cuori la passione perciò il compito di 3Dream è quello di mettere assieme i cuori di mettere assieme le passioni e di far sì che il mondo in qualche piccola parte sia migliore